Come abbelliamo Gaeta in collaborazione con il Comune di Gaeta abbiamo deciso di intraprendere un progetto dal titolo Borgo Fiorito, quindi vogliamo rendere il nostro borgo di Portosalvo, il centro storico di Vindipendenza, fiorito quindi più bello ed accogliente sia per i cittadini che lo vivono che per i turisti che lo visitano. Oggi abbiamo deciso di abbellire una piazzetta che è collocata nel cuore del Borgo, che è Piazza Goliarda Sapienza e devo ringraziare per questo l'assessore ai lavori pubblici Angelo Magliozzi, le aziende del Verde che hanno deciso di aderire, ossia il Vigaio Aumenta, l'azienda Agri Garden e l'azienda di Corizia che ci ha donato la lavanda, l'azienda Cubotto. Ovviamente ringrazio i commercianti e i residenti di questa piazzetta e di piccoli annessi che hanno contribuito economicamente e materialmente perché noi non ci avvaliamo di alcun contributo pubblico per aver deciso appunto di partecipare e consentire l'abbellimento di questa piazzetta. Noi stiamo portando avanti anche un altro progetto molto interessante che è il progetto dei piccoli musei del Borgo, stiamo riqualificando praticamente i piccoletti e al di sotto delle capanne che sarebbero quelle strutture a volt che troviamo agli ingressi e stiamo praticamente allestendo dei piccoli musei andando a valorizzare quelle che erano le antiche arte e gli antichi vestiti del Borgo e lì dove è possibile valorizzare una figura di un personaggio illustri del nostro Borgo gli dedichiamo una targa linea, una foto e quant'altro, proprio per rendere memoria e rendere omaggio a questi personaggi illustri che hanno contribuito a fare la storia della nostra città.